Sempre allo stand Redolfi di IT 2020 guardiamo insieme la DERIA MK20, un fucile basato sull'impostazione della R ma calibro 20 a canna liscia. Che ci puoi dire di quest'arma? Quanti colpi contiene il caricatore? Il caricatore per il momento 9 colpi. E il prezzo al pubblico di quest'arma? Non cambia rispetto al calibro 12 quindi siamo sempre all'incirca sui 1000 euro al pubblico. Interessantissimo, vediamo l'ora di provarla, grazie. Grazie a voi.